Pensa che con 14 euro compreresti solo un libro nella vita di tutti i giorni, mentre con Book a Book, The New Yorker Churcher, spendendo 13 euro, prenderesti e-book, libro cartaceo e sceneggiatura. Sceneggiatura inedita per un film su The New Yorker Churcher. Tutto a 13 euro. E cosa aspetti? The New Yorker Churcher su Book a Book. Non fartelo scappare. E ricorda, se entro 180 giorni si arriverà al traguardo dei 2000 euro, sceneggiatura e-book e libro saranno tuoi. Cosa aspetti? Seguimi, sostienimi, votami. Un bacio. Ciao, ciao. Grande.